Sì, siamo sull'indeciso. Come dice mio figlio? Io dico, io voto no, perché non sono favorevole ai cambiamenti. La stessa, la stessa. Sono anni che non voto, ma stavolta andrò a votare. Voterò sì, qualcosa deve cambiare, non può restare sempre la stessa cosa. Io non è che sono molto amico con Renzi, i vecchi sono troppo attaccati al potere. Basta, si devono mettere da parte, non hanno mai fatto nulla e devono lasciare posto ai giovani. E appunto valutero sì. È da 40 anni che viviamo sempre allo stesso modo, mai meglio, sempre peggio. Per i pensionati non si fa niente, per i poveretti non si fa niente, per quelli che non hanno da mangiare non si fa niente. E io voto no. Secondo me questo referendum è tutto un indore. Non penso che questo sia un metodo per risolvere il sistema politico italiano. Sono convinto che questo governo ha fallito. Andare a votare andiamo? Andare? Ma non lo so, vogliamo salve. Sì, sì, perché mi convince il sì. Cambierà qualcosa, non so se in bene o in male. Credo che cadano parecchi privilegi. Certo che andremo, è una cosa personale. Certo, no. Non sono d'accordo con le tesi che sta mettendo in atto questo governo. Sì, credo di sì. Sì, penso di votare sul no. Non è molto chiara questa riforma, quindi sono più predisposto per il no, diciamo. Sì, probabilmente sì. Sicuramente no. È una riforma un po' pasticciata, non mi convince appieno. È una riforma che è fatta con i piedi. No, perché sono stufo di vedere tutti questi pagliacciari. Tutte le persone che vanno al governo vanno per la poltrona, rubano da matti, promesse, promesse, promesse. Loro si guadagnano le pensioni. Il senatore che guarda? Il referendum io voto no. E perché voto no? Non sono maniata di mangiata, tutti. Non si vota no. Per la riforma no, no. Non ha preso in giro. Sì, andiamo a votare, però no, non lo so. Sì, andiamo a votare. Sì, abbiamo deciso. Ho deciso, però lo tengo per me. Il voto è segreto. Speriamo che cambia qualcosa in questa votazione. Certo che andrò a votare. Il voto no. In ammestibuli, accoppiato con la legge elettorale, diventa un regime. Un regime proprio. No, assolutamente. Perché no? Non mi interessa proprio. In ogni caso, quasi siete fra e non mi hanno sempre fatto quello che hanno voluto loro, quindi non cambiamo mai. No, non c'è dubbio. Come mai? Io per quello che ha fatto Renzi, non mi trovo. Nonostante, io ero uno che l'ha votato. Purtroppo l'avevo votato chi? Monte sullo stretto. Ma scusi, ci vedo da dire. Andremo, andremo tutti. Non lo sappiamo ancora. Siamo nì.